Comprato il diario? Ora pensiamo ad abbellirlo! Questa è arte per te, arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te in questo nuovo Back to School. Oggi pensiamo a impreziosire il nostro diario con delle graffettine che dividano i settori del diario stesso oppure che servono per raccogliere gli appunti. Le graffette a scuola non sono mai troppe ma vi faccio vedere il modo in cui le usavo quando tanto tempo fa andavo a scuola. Pensate, negli anni 80 i diari di tutte le ragazze erano tempestati da queste creazioni che vi faccio vedere adesso. Non le ho viste sul web, non ho trovato nessuno che fa queste cose quindi se voi non le conoscete io rimango così, stupidissima perché Gabriele le ha viste e non le conosceva. Gabriele è un po' più piccolo con me e già a lui sfuggivano queste tecniche di decorazione del diario ma ditemi voi se lo fate, se le conoscete. A me sembra così strano, quasi quasi questo video non volevo quasi farlo perché mi sembrava il festival delle ovvietà ma l'ho fatto vedere a un paio di ragazze giovanissime e tutte sono rimaste ah ma io questa cosa non la conosco, quindi la condivido con voi. Vedremo come organizzare i nostri appunti e come organizzare le divisioni del nostro diario con graffette e separatori molto molto particolari. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamole a fare. Ed eccoci pronti per questo back to school organizer cioè fare, creare dei piccoli oggettini che ci permettano di organizzare meglio i nostri appunti scolastici o il nostro diario e nel frattempo abbellirlo e rendere più leggeri gli argomenti che tratteremo in quelle pagine. Allora, cosa ci occorreranno? Innanzitutto per il primo progettino una pinzatrice con le puntine e uno smaltino per il secondo progettino, per la seconda idea ci serviranno solamente delle graffette di queste qui un po' gommate vedete quelle piccoline gommate, io le ho comprate da Tiger per un euro e si chiamano Clips Paper Clips appunto e sono 100 e servirà anche una pistola a caldo Per la terza idea invece ci servirà solamente del nastro, del qualsiasi colore e degli abbellimenti che voi potrete crearvi questi li ho fatti con la pasta di schiuma dal profumo vi metto il link per accedere al video di riferimento qui dove c'è la icol pallino oppure qualsiasi abbellimento voi abbiate, anche in legno, in fimo, quello che volete Per la quarta idea invece vi suggerisco un altro progettino vi serviranno semplicemente delle graffettine, quindi come queste o anche metalli che non importa e degli abbellimenti che potrete o comprare già pronti questi li ho presi da Tiger a un euro oppure crearveli da soli per esempio con un bottone e dello smalto cominciamo subito primo progettino che nel mio astuccio non mancava mai quando andavo a scuola era il farmi delle clips colorate in modo che quando io pinzassi i miei appunti le mie graffette venissero fuori coloratissime e bellissime questo consentirà di avere anche delle copertine per le vostre ricerche o per i vostri progetti molto molto carine allora come si fa? si passa semplicemente dello smalto per le unghie sulle graffette si tira ben bene voilà senza eccedere troppo si fa soltanto la parte superiore così e si lascia asciugare mettiamolo da parte e vedremo questo progetto tra qualche istante finito nel frattempo passiamo al secondo il mio secondo vezzo anni 80 da diario era creare delle graffette delle puntosi graffettine a forma di cuore è facilissimo e sono divertentissime da fare basta prendere le estremità e spingere verso il basso la parte più corta verso il basso sul retro guardate così basta vedete piegare voilà e abbiamo finito voi direte ma che cos'è questa cosa? una cosa scemissima come ha detto anche Gabriele vedendole e invece è una cosa fighissima facciamone un'altra voilà visto il gesto? basta piegare le estremità e guardate cosa viene fuori prendo il mio diario questo è davvero il mio diario allora vediamo magari prendo una pagina ecco dove non c'è nulla e voilà è a forma di cuoricino tadaaa e queste stavano bellissime tutte messe anche sui lati per segnare i vari settori della mia agenda che volessi isolare da altri argomenti visto che carine molto molto carine secondo progettino easy è veramente facile terzo progettino facciamo un segnalibri che possa essere sia per la nostra agenda che per il nostro diario molto semplice ritagliamo semplicemente un pezzettino di nastro questo è un video molto molto easy ragazzi e all'estremità così attacchiamo un abbellimento con cosa? con la colla a caldo se vogliamo essere proprio proprio rifinito rifinite prendiamo le estremità e tagliamo anche così e voilà quindi prendiamo la nostra agendina lo dobbiamo appiccicare sull'ultima pagina sulla coperta finale quindi mettiamo un puntino di colla a caldo e qui non vi dovete proprio sbagliare dovete piegare così all'interno il vostro segnalibro quindi poterlo usare tranquillamente voilà e segnare le diverse pagine che vi interessano visto? e risulterà così pulitissimo e carinissimo potete farne tanti uno di seguito all'altro potreste anche inserirli tra le pagine lì dove volete che magari possiate prendere subito una parte che ne so magari la rubrica finale ne fate uscire uno così laterale e lo aprite io ero piena di questi segnalibri tutti i ciondolanti fatti anche con perline con qualunque cosa veramente quindi vi ho fatto la prima vi ho fatto la seconda vi ho fatto la terza serve la quarta idea la quarta idea è proprio easy easy e serve per abbellire le nostre graffette ne prendiamo una gialla prendiamo un bel abbellimento voilà e lo adagiamo così da ambo le parti voilà e la nostra graffettina è veramente diventata stra 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 bella guardate un po' anche questo può essere visto come un segnalibro visto? ta da lei rimane fuori così quando chiudete e si vede esattamente dov'è e subito vi fa andare sul vostro sulla vostra pagina se invece non avete nel voglia del tempo di spendere dei soldini trovate dei bottoncini molto semplicemente e come vi ho fatto vedere prima prendete una graffetta e attaccateli sul bordino quindi mettiamo un bottoncino da questo lato con la colla a caldo tacchete e per non fare vedere la magagna mettiamo una graffettina anche da quest'altro un bottoncino anche da quest'altro lato e voilà e adesso dopo che si è asciugato vediamo la riuscita di queste graffette inseriamole all'interno pigliamo un foglio di carta e vediamo e voilà carinissima guardate anche per decorare le card tre pinzette fucsia tre graffette fucsia e non più grigio metallico immaginatele del colore delle copertine per le vostre ricerche per i vostri appunti per i vostri bigliettini non sono troppo carine bene questi erano i miei espedienti anni 80 per avvellire le agende e i diari di noi scolari di allora voi che cosa usate per la scuola insomma queste sono le cose che facevo io quando andavo a scuola spero vi siano piaciute e che possiate riusarle anche adesso perché dopo tutto sono sempre attuali no? i diari li abbiamo sempre e gli appunti spero li prendiate sempre e allora adesso vi lascio le foto e noi ci vediamo di là ciao visto che belle quelle a forma di cuore quelle impreziosite con i bottoni o con gli abbellimenti il segnalibro made e le graffette colorate ditemi che non ci avevate mai pensato alle graffette colorate noi ne avevamo a scuola di qualunque colore colorate come volete le vostre graffette per la pinzatrice e soprattutto fate tanti cuoricini a forma di graffette per il vostro compagnetto preferito bene basta parlare ritorniamo tutti tra i banchi di scuola con un grande sorriso e tanto colore io vi aspetto anche su 2Q1K e ombretta i miei altri canali i link li trovate qua sotto e vi aspetto anche sulla mia pagina facebook qua sotto ovviamente vi aspetto anche su instagram io vi aspetto vi aspetto voi venite se il video ti è piaciuto pinsami un bel pollice in su e soprattutto condividilo sulla tua pagina facebook e noi ci ritroviamo sempre qui per il prossimo video da ombretta ed arte per te è tutto ciao arrivederci